Dal Piemonte alla Liguria, da Alba a Imperia, per ritrovarsi a ricordare i bei tempi quando dando calce al pallone arrivarono anche a conquistare un ambito trofeo in Svizzera. Ecco la storia di un gruppo di ragazzi di 50 anni fa che militavano nell'Albese e che si sono ritrovati per ricordare i vecchi tempi, approfittandone anche per scoprire i sapori della Liguria, ospiti di Olio Raineri a Chiusanico, con la partecipazione di Cantina Ramoino. Qui all'Olio Raineri spesso ci sono occasioni di festa e di brindisi. Pierluigi Rinaldi, tanti amici che arrivano dal Piemonte ma non è solo una visita di compaesani o conterrani, qui c'è qualcosa di più, c'è un legame sportivo, è vero? Esattamente, come ben sai sono piemontese, sono albese e io ho avuto la fortuna quando avevo 16 anni di giocare nella squadra dell'Albese e qua ci sono i miei compagni di squadra per cui risaliamo, stiamo rivivendo un torneo fatto in Svizzera e vinto in Svizzera a Iverdon che è esattamente 53 anni fa, per cui è stato un piacere enorme quando questi amici mi hanno telefonato e ho avuto l'occasione di ritrovarsi qua. Tra di questi ce n'è addirittura uno che arriva dal Venezuela per cui figuratevi, ne manca uno che è in Thailandia che ha telefonato adesso ma è una bella rimpatriata. È stata anche un'occasione per far conoscere questi amici del Piemonte, il territorio imperiese, il prodotto principe che è l'olio insieme anche a qualche nostro vino, qualcosa di buono di questa terra. Infatti qua vicino con noi è anche Ramoino che rappresenta una cantina locale. Sì, vi dico questo perché è una cosa interessante, come possiamo trasmettere appunto il nostro territorio anche a territori fortunati come sono quelli delle Langhe perché ho notato in questi miei amici, i miei coetanei, il piacere di sapere qualcosa di più di come si fa l'olio, di cosa vuol dire stravergine, per cui è stata sicuramente una mattinata interessante. Ed eccolo lo squadrone qui dell'Albese di 50 anni fa che festeggia, chiacchiera perché sono veramente accaldati appassionati come se dovessero tornare in campo fra dieci minuti. Allora cominciamo un po' dal capospedizione che è Enzo De Maria che tra l'altro è stato anche sindaco di Albe, è vero? Quindi un personaggio veramente sportivo, calciatore, capogruppo in questa occasione, sindaco, amministratore. Più di 50 anni fa questi ragazzi li ho portati in Svizzera, quando allora attraversare la frontiera era già un avvenimento, qualcuno era mai andato all'estero. Due anni di seguito siamo andati in questa città svizzera, i Verdun, il primo anno siamo andati il secondo e il secondo anno abbiamo vinto il primo premio alla Coppa. E quindi questa Coppa è poi arrivata ad Alba e mi hanno poi detto anni dopo che questa Coppa era biennale. Per tenersela bisognava vincere due volte. Noi per non perderla non siamo più andati a giocare. Dove è finita la Coppa allora? Cercando ancora, in Svizzera ci sono degli agenti segreti che stanno ancora, infatti tutti gli svizzeri che vengono ad Alba, sentiamo che non siano di Iverdon perché c'è quel problema lì, che se è di Iverdon questo è venuto qua a cercare la Coppa. Insomma c'è anche questa aneddota. Dobbiamo essere qua in undici per fare una partita a sfidare la squadra d'Imperia, poi siamo solo arrivati in otto perché due o tre hanno avuto qualche problema. L'anno prossimo andiamo qui e sfidiamo una squadra del luogo. Per quest'anno l'Imperia sarà ancora cavata, poi l'anno prossimo si vedrà. Questi ragazzi qui gli faranno dieci gol. Pierluigi, il titolare della Ragnieri, era titolare della squadra e il papà di Pierluigi che oggi ha 96 anni, 97 anni, veniva tutte le partite, tutte le trasferte, il papà di Pierluigi era sempre con noi, perché allora c'era anche il problema dei trasporti, bisogna avere l'automobile, allora il papà di Angelo, il papà di Pierluigi venivano con la macchina e di seletto il papà. I genitori erano quelli che facevano i trasporti. Quindi altro che pulmane e organizzazioni come oggi, lì c'era veramente tanta tanta passione. Sì, sì, sono stati dei momenti indimenticabili, infatti noi riusciamo dopo 50 anni ancora a ritrovarci e fare questa bella festa. Un ringraziamento particolare alla nostra punta. Lui era quello che doveva salvare, lui e Eugenio seletto erano quelli che dovevano risolvere le partite. Qualche volta non ci riuscirono. Ecco. C'è un po' di malignità, li avrebbero dovuto. Lui è il portiere, infatti lui è... Pierluigi era alla destra, Angelo era capitano, poi questi ragazzi sono andati tutti in prima squadra dell'Albese, quindi certo questo allevamento di allora, poi Fenocchio, Dario, seletto, tutti sono andati in prima squadra a giocare. Scoglund, lui era biondo, lo chiamavamo Scoglund. Quando aveva i capelli però, eh? Quando aveva i capelli. Adesso, non ce l'ha più, ce l'ho solo più io. Aspettate che vi devo raggiungere perché se no non vi sentiamo. Su un calcio d'angolo, battuto da me, lui ha fatto un gol di testa, cosa che non era mai capitato. Vado ad abbracciarlo e mi fa, sì va bene ma guarda, mi sono anche spettinato per fare sto gol. È passato alla storia. Problema. Problema, un grande problema era quello. Dal Venezuela apposta qui a Montedassio però per essere, a Chiusanico anzi, per essere insieme agli amici. Sì, sì ma io vengo sovente in Italia. Già l'anno scorso abbiamo fatto una piccola riunione e adesso abbiamo approfittato di Gianluigi per venire qui. Grazie Pierluigi. Beh, complimenti a tutti voi a questo punto. Cosa vi devo dire? Per concludere fatevi un applauso da soli perché non abbiamo altro pubblico. Grazie, grazie Andrea. Viva l'Alpesi. Viva l'Alpesi.